Ma porca di quella tro... Era un po' troppo tempo che non portavo video su Minecraft Specialmente il parkour dove non mi rabbo per niente Tanto è importante a crederci, no? E quindi siccome non ho video pronti da portare in questi giorni Ho fatto velocemente un video di Minecraft È qua? Ma questa parte qua? Sì No, di qua, di qua, di qua Ah, cioè, ho già cominciato... Non lo so, io da te sei l'esperto Ah, quindi immagino che bisogna andare su questi affari Per adesso però è facile, dai Se è tutto così si può fare Esatto, appunto Ok, mi ho messo nel caso nuovo Però non capisco come si fa Credo che tu debba entrare qua... Ah, ok, sei entrato Mi si è baccavo tutto Anche a me Che sta a succedere? Ah, Minecraft è esploso? No, no, aspetta, aspetta, aspetta È tipo presentazione Ma guardate che cosa fanno questi qua Sì, presentazione dei livelli che ti fanno tirare più moccoli di... Di blur A me deve ancora caricare parte della mappa Eeeh... Mica si scherza, eh Sto a cadere Guarda, se guarda il mio universo Ok, buongiorno Perché... Dove sei? Eccolo... Dove si... Ah, da qua si comincia? Beh, prima te che si riprova Bravo Si, si comincia Dai, però anche sono scarse Dalla beva Eh, per questo visto è sbaglio questo Ma scusa, ma io Quando gioco a Minecraft Prima cosa Seconda cosa Anche il parkour Si, è vero anche quello Però Ora poi immagino che debba andare Che debbo Andare in questo albero qua Debe esce andare là Ok Il primo livello era fattibile Appunto Ho sbagliato l'ultimo salto Guarda quanto sono pro Non ci posso sbagliare Scusa, ma c'è il buco nella parete Che c'è Non ce la fa mica a centrarlo Vabbè 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 Da qua vieni qua giù E fai il parkour Da dove comincia? Da qua? Vabbè Proviamoci Prima io perché Il canale è mio E quindi ho la priorità E qua? A sinistra o lì? Devo andare a sinistra A sinistra C'è a destra Quando ci sono i fogliolini? Si Ma te stai Cioè Mi prendi per il culo Oppure No io ho fatto così Così hai fatto Ok va bene Eccoci Forse era meglio Se andava a sinistra La borca Ma sto gioco Veramente troppa roba Io sono rimasto indietro Io giova a formula 1 Mi ha giocato a minecraft E che c***o Però Oddio sì Devi salire sopra E saltare E fare tutto il solito Io aspetto che tu finisca anche Devo andare sugli alberi Cosa devo fare adesso? Devo andare dietro me Oddio Oddio Sono livello 6 Se qua si cade Ci si fa male Oddio sì No 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 ti prego No eh No ok Non ce l'ho fatta Come si ritorna su? Ma se Ma io ti vedo fermo Connection lost Mortacci di sua madre No ti prego Dimmi che non mi fa risponare Oddio sì Oddio sì Oddio perché dovrebbe far risponare lì? Praticamente è come No ho sbagliato Ho sbagliato E ce l'ho fatta Eh ma Ma te sei troppo Oh perché va da fuoco? Basta Spengiti Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Lo stesso Come si fa qua? Come è impossibile Non si può fare Senza un power boost Deve andare avanti Un jump boost Ma dove sei? A quello della lava Ah A quel tempo Sei ancora? Quello che secca di venire la lava Ah Dai sì Poi anche io Comunque so forte Guardate va Che pro gamer che sono Ok ok E fin qua Ma da quanto a questo ha risposto? Non lo so Ma adesso sono impegnato A non farmi espolvere un ventricolo A good thing